Potente appara ragazzi, qua è Axel, ho già mi caldo, ci sono da solo e sono qui a presentarvi su mio nuovo video Ragazzi prima di iniziare mi volevo un attimo scusare con voi perché, perché ragazzi io ho una febbre della madonna Ho la tosse, ho il raffreddore, quindi non vi ho potuto portare il pink pale Però, dato che io ci tengo a voi, ho detto, ma noi dobbiamo portare un video E questo qua è, credo che sia, il video mio più importante sulla compravendita Come vedete sono messo bene, perché? Perché ragazzi qua, in questo video, vi rivelerò, diciamo, il metodo per eccellenza Il metodo per eccellenza per fare crediti Perché se vi ricordate, nel penultimo episodio dei video sulla compravendita che io avevo fatto Vi avevo detto che c'era un metodo, abbastanza infallibile, che vi permetteva di fare crediti a palate Appunto, utilizzando un semplice, non dico bug, ma lavoretto che la EA compie Questo lavoretto in che cosa consiste? Consiste nella manutenzione dei server EA Perché, bene sì ragazzi, ci sono dei momenti in cui la EA decide di mettere in manutenzione i server di FIFA E, vabbè, per magari migliorare qualcosa dell'online, fixare dei bug, migliorare magari i colpi di testa Che ormai sono troppo verpovia E quindi, dato che devono ufficializzare questa loro manutenzione, scrivono nella loro pagina Facebook o sul loro account Twitter Che, appunto, in un determinato arco di tempo, in un determinato periodo, loro faranno una manutenzione dei server Allora ragazzi, questo qua, appunto, è ciò che noi dovremo sfruttare Innanzitutto, oggi sono stato strafortunato a vederlo Perché? Perché ragazzi, io oggi non sono andato a scuola, dato che sto male ancora Ho tipo 38 di febbre, una cosa abbastanza tattica E ho avuto la fortuna, ma proprio casualmente, perché se no io non mi ricordavo Di trovarmi sulla bacheca di Facebook Appunto, questo post fatto dall'Ultimate Team Dalla pagina dell'Ultimate Team Che è appunto FIFA Ultimate Team Comunque, ve la lascerò in descrizione Che, appunto, diceva che oggi, il 17 dicembre Dalle 9 all'1 inglesi, quindi dalle 10 alle 14 nostre Ci sarebbe stata la manutenzione dei server EA E io qui ho detto, carpiamo il DM Bisogna sfruttare l'occasione per fare il video Il video della compraventa E ragazzi, questo qua vi posso assicurare che è il metodo migliore di tutti Se è fatto bene, può fruttare anche il milione a botta Solamente io, cos'è successo? L'avevo visto troppo tardi Beh, l'avevo visto ai 40 Però ragazzi, se alle 9.40 Però, ad esempio, mi ricordo che L'avevamo fatto anche in estate, sul 12 E poi, tipo, appena uscito FIFA Sul 13 di pomeriggio E lì avevo fatto Sul 14, scusate Avevo fatto un macello di crediti Tipo, mi ricordo, sul 12 in estate Mi sembra 1 o 2 milioni Quindi ragazzi, se appunto Si nota Si nota questa manutenzione dei server Ci si può guadagnare veramente tanto In che cosa consiste il guadagno? Praticamente, ragazzi, durante questa manutenzione Cosa succederà? I server si chiuderanno Ma non si stopperanno Quindi non fermeranno il tempo delle aste Le aste continueranno ad andare Quindi, in che cosa consiste questo trucchetto? Noi dovremo fare l'offerta a un giocatore E, appunto, questa offerta deve durare Deve finire, deve scadere Durante questa manutenzione In modo tale che nessuno vi possa più rialzare l'offerta E ragazzi, per trovare i giocatori Io utilizzo tre metodi principali Il primo è quello di utilizzare l'informa Andiamo sulla squadra della settimana E troviamo l'informa Perché? Perché, ragazzi, questi sono i giocatori Che si trovano nei pacchetti E solitamente, quando uno trova qualcosa nei pacchetti Lo mette ad un prezzo iniziale di 150 Quindi è molto più probabile Che è molto più facile Che voi riusciate a fare un'offerta A questi tipi di giocatori Poi c'è il metodo del 150 Ovvero, che è quello, diciamo Che uno deve utilizzare Uno che ha pochissimi crediti Perché? Perché, ragazzi Voi vi basterà fare l'offerta Magari anche un giocatore oro non raro A 200 Che può Anzi, io vi consiglio di farlo a 250 Perché magari mettete caso Che sia un giocatore con overall di 75 E nessuno ve la rialzerà Perché, appunto, se poi dovrete scartare questo giocatore Riceverete 300 crediti Quindi voi fate l'offerta a 250 A una marea di giocatori Poi i server Scusate, andranno offline Quando ritorneranno online Voi vi ritroverete una caterva di giocatori 250 E poi o li scarterete per 300 o più Oppure li venderete Poi, il secondo consiglio Il secondo metodo è quello del prezzo Di come trovare i giocatori Voi mettete il prezzo dei vostri crediti Scusate, non so se mi sono espresso bene Comunque, mettete caso Voi avete un milione di crediti Voi fate prezzo minimo 200 Massimo un milione E lì magari troverete giocatori Che valgono un milione di crediti Ad un'asta di 200 Mi sono scordato Aggiungete anche il compraora Magari a un milione e duecentomila Così che voi magari troverete un giocatore Che costa intorno al milione e cento Ad un prezzo di 700 E questa mi sembra una magicata Perché voi gli farete l'offerta I server andranno offline E quando torneranno online Voi vi ritroverete appunto Questo giocatore Pagato 400 mila crediti in meno Di quel che costa realmente Poi, ragazzi Ho un'ultima fase Che è la fase critica Che è quella fase che incontrerete Che sarà presente Nei 20 minuti Nei 10-15 minuti Prima Dello spegnimento Dei server Diciamo In cui tutti In cui tutta la gente Che ha conoscenza appunto Della manutenzione di questi server Vi rialzerà le aste Ragazzi Qua bisogna stare molto attenti Perché appunto È un gioco di velocità Se si può così richiamare Che alla fine vince Chi è che vince Chi è più veloce Chi fa l'offerta Proprio prima Della Della scadenza Dei server Se possiamo così chiamare Dell'orario di chiusura Ecco L'unica cosa Che è un po' una bastardata È la EA Non chiude mai server All'orario prestabilito Come non li riapre mai Ma questo ve lo posso assicurare Nell'orario che ha detto Infatti i server Sono andati offline Se non mi sbaglio Verso le 10 e un quarto Se non è Mi sembra di sì E sono tornati offline Online Dovevano tornare alle 14 Sono tornati tipo alle 15 e 20 Quindi ragazzi È una cosa Non abbastanza potente Comunque come potete vedere Questa è la fase In cui appunto Stavo vendendo Tutti quei giocatori Trovati Mi sono trovato Benerrimamente bene Con 3 giocatori Con 4 giocatori principali Il primo è Diego Alves In forma Con lui mi sembra Ci abbia fatto 10.000 crediti Poi secondariamente Art Poi Ramsey E Casillas Ragazzi in questo In questo piccolo video In questo video Ci tenevo a dire che Innanzitutto Avendo poco tempo Non mi sono potuto concentrare Su giocatori molto più costosi Perché ragazzi Cos'è possibile fare Con i miei giocatori più costosi È possibile trovarli Ad un prezzo molto minore Di quel che In realtà costano E poi ovviamente Rivenderli a un prezzo Maggiore alla grande Però ho detto Ma dato che Molta gente Mi chiede di fare Di video sulla conventa Proprio perché Questa gente Ha pochi crediti Ho detto Ma si dai Facciamo un video Che possa aiutare Appunto tutte queste persone Poi ragazzi L'unica cosa Che a volte I prezzi dei giocatori Può succedere Dopo La riapertura Dei server Si scrollino Un esempio Era stato Suarezif Che io pensavo Costassi sui 500.000 Poi L'avevo preso 407 Poi sono andato A vedere Una volta riaperti I server Quanto Quanto appunto Era andato Il suo prezzo Fosse andato Il suo prezzo E tipo Era salito Di 20k Quindi 427.000 Quindi appunto Ci possono essere Questi inconvenienti Comunque tornando Al discorso di prima Ho utilizzato appunto I giocatori Alla portata Di tutti Uno dei Quello con cui Mi sono trovato meglio È stato Art Che tipo Costava 3.500 Io sono riuscito A prenderne un macello A 2.000 A 1.500 Ma anche A 751 Stessa cosa Per Adel E anche Andanovic Ecco Mi sono concentrato Soprattutto Sui portieri Ma una cosa Molto importante Ragazzi Se voi avete crediti Concentratevi Sui giocatori Molto costosi Perché ragazzi Si può guadagnare Un macello Con questi Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Dato che Dato che Non so Se sarà il mio ultimo Video Sulla complimentita Ma Sarà appunto Questo qua È appunto Il video Dove vi rivelo Il consiglio Principale Il metodo Migliore appunto Per fare crediti Vi chiederei Gentilmente Di lasciare un bel Mi piace Un commento Magari Ad arrivare anche A 800 mi piace Entro stasera E 500 commenti Anzi ragazzi Se ce la facciamo Arriviamo direttamente A 1000 mi piace Appunto I 200 in più Sono per farmi Tornare in buona salute Diciamo così E i commenti Sono per far sentire La vostra presenza Proprio che ci siete Nel canale Poi ragazzi Se potete Condividete Aggiungete Ai preferiti Il video Fate espandere Diciamo il mio canale Invitate i vostri amici A iscrivervi E vi ricordo Che il 21 Ci sarà l'estrazione Per l'escritto più attivo Quindi ragazzi Detto questo Io vi saluto Spero che il video Vi sia stato di vostro Aiuto E vi dico potente Appala Sì Nel prossimo video Bolla Ah sì Mi riscuso Per la voce Bolla